motion, non è il cartone animato non è il cartone animato è disegnato, non è il cartone animato inteso tipo cartone della Disney i zordi sono fatti stupendo animazione in quel senso lì si dannano per i power ranger lo picchio, lo picchio, lo picchio Roberta, io ce ti ho cresciuto che i power ranger ci puoi mettere 50 euro in scommessa che la formazione è creatrice io schema dell'età viviamo tu che cosa ne pensi di power ranger? non ho parole non è che ci sono rincoioni dopo il secondo anno ti dico che ci sono tutti rinco ma anche noi vedevamo che i poveri ranger scusa e avevo sia i popazzi piccoli che quelli di l'anno ma cangiava la storia che due fuori ha dato un euro che lo vende aveva la storia cangiava ma quello di fuori era quello bianco che aveva delle parti nere e poi sicuramente si è confusa però il primo ranger esterno vengono attaccati combattono, si trasformano sconfiggono i seguori si finisce l'episodio e la trama è base dell'episodio non è che era ma la tua pizza com'era? non lo sa con era non lo sa con era grazie 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 grazie